L'emergenza cerano causata dall'allagamento del nastro trasportatore sarà risolta con il trasporto su gomma del combustibile necessario al funzionamento della centrale Federico II con le acque convogliate in un serbatoio interno. E questo è quanto è emerso dal vertice che si è svolto in prefettura tra l'Enele, il comune di Brindisi, la provincia e l'Arpa. E' stato quindi preparato e condiviso di fronte al prefetto Nicola Prete un piano di emergenza per fraffronte ad un'autonomia della centrale di soli quattro giorni. La soluzione prospettata dalla società energetica consiste nel pompaggio e coinvolgimento delle acque meteoriche in un grande serbatoio presente nell'area della centrale, a suo tempo svuotato e bonificato e dunque attualmente inutilizzato. Ma questa è ovviamente una soluzione temporanea, per quella definitiva è necessario attendere ancora un po' di tempo. Ed intanto nella stessa giornata di oggi il prefetto di Brindisi Nicola Prete ha anche incontrato il comandante del NOE per capire se durante lo svuotamento del nastro trasportatore effettuato tra sabato e domenica scorsa da parte dell'Enel ci possa essere stato un illecito commesso dalla stessa società elettrica, un illecito che abbia potuto danneggiare anche l'ambiente. Secondo il WWF le acque sversate nel fiume grande che sfocia il mare sono state contaminate dal carbone in seguito al contatto con il nastro trasportatore ma è solo una ipotesi e tale resta visto che non c'è stata alcuna campionatura e quindi non saranno effettuate alcune analisi su quell'acqua piovana.